Che bella zatterina! E' minuscola, io non mi fidero... Non ci farei un viaggio nemmeno in piscina! Non c'era bisogno di fare queste rimette in piscina! Era bellissima! Oggi passeremo alla storia, perché come Cristoforo Colombo faremo delle scoperte meravigliose esplorando le varie isole. E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! Io sono Stef, e che si chiama? Stranded Deep! E dopo aver costruito un magnifico rifugio che guardano lì come bello e splendente... Come risplende con la luce del sole! Che ancora non è sorto, però va benissimo! Oggi dedicheremo l'episodio, come avevamo detto la scorsa volta, ad esplorare un pochettino le isole che abbiamo intorno. Esattamente! E quindi, per andare ad esplorare, proveremo anche un nuovo veicolo. Al nostro discapito, perché secondo me una zattera costruita da noi non è molto sicura, però proviamoci. Dato che il nostro gommoncino è davvero lento, proviamo a fare una bella zatteretta, proprio basilare. Zatteretta, sì, è il nome della nostra zattera, allora, ok? Zatteretta la zattera! Esatto! Uno scioglilingua! E dicevo, quindi proviamo a costruirla, speriamo che vada davvero più veloce del gommone, e nel caso ci farà comodo per esplorare le isole. L'obiettivo di oggi non è tanto esplorare delle isole, ma è fare qualche passo avanti, quindi... Sì, trovare qualche isola super fighissima. Non perdiamoci in chiacchiere che la sete sta già scendendo. Allora, ci mettiamolo sul bel martello, ci avviciniamo ai materiali che ho prontamente affermato tra un episodio. Bravissimo! E l'altro, sono stato molto bravo, grazie. Andiamo su Zattera e ci chiede 14 e 1. Ne abbiamo addirittura 20, ho esagerato. Ma dobbiamo fare anche la vela, secondo te? Credo di sì. Vabbè, altrimenti come andiamo? Scusami, dobbiamo sfruttare il vento. Ecco, vedi? Esatto, ci serve sicuramente... E ci serve un pezzo di clot? Oh! Sì, vabbè, vabbè. Ma che barba! Non te ne riaccorto di questo? No. Ci siamo! Allora, la base della nostra zattera la dobbiamo impiazzare in acqua, immagino. Eh, beh, sì, per forza. Spero. Opla! No! Perché? No, vieni qua! Torna qui! Se ne sta andando, se ne sta andando, prendila! Zattera! Ma perché? Ti spingiamo noi. Torni indietro, devi stare ferma, come il gommone, parcheggiati. Allora, è tutto a posto? Ferma. Più o meno. Più o meno. Devi essere veloce a fare anche la vela, perché se no questa parte da sola, è parte da sola. Allora, poi, propulsione. Propulsione, vabbè. Il discorso è che credo che dobbiamo fare anche il floor della zattera, quindi forse ci serve anche altra legna. No, secondo me è così, eh. Dici? Ci metti la vela secondo me così, ne sono così sicura? Allora, fammi vedere un attimino. Quindi andiamo qua, facciamo la vela che dobbiamo mettere sulla nostra bellissima... Ovviamente mettila bene, che se no non ci siamo noi di lato, di lato tipo, no? Sì. È di così. Sì, però. Guarda. Un po' più in alto. È alta. È ok. Non me la fa mettere. Abbiamo chiuso e riaperto il gioco, perché avevamo capito una cosa. Che la zattera all'inizio, quando è volata via, si era semplicemente buggata. Ma guardate... No, si era girata, quindi giustamente il floor risultava sotto, quando invece deve risultare sopra. Abbiamo rifatto tutto da capo e finalmente la vela monta. Finalmente. Sì, che bella zatterina. È minuscola. Io non mi fidero. Non ci farei un viaggio nemmeno in piscina. Non c'era bisogno di fare queste rime. Era bellissima. Guarda, sono fiero di questa rima. Ti ho fatto piangere tutti questa rima. No, guarda, io sinceramente mi vorrei alzare e andarmene, perché sono talmente fiero di questa rima che non c'è bisogno di continuare il video. Mamma mia, era terribile, era terribile. Ti ho spiazzato, ammettilo. Comunque, ti dicevo, è davvero stretta. Siamo sicuri di voler viaggiare in mezzo all'oceano così? Da noi si dice Ammarolla, ok? Non ci vado con che... Non devi insegnare le parole in sardo, perché poi i commenti sono tutti di loro che cercano di parlare in sardo. Quindi adesso i commenti saranno solo Ammarolla. Con due M, mi raccomando, se la volete scrivere. Davvero? Io credo di sì, Ammarolla. Io il sardo lo so dire, ma non lo so scrivere. No, secondo me è due M, una R2L. Ok. Sono quasi sicura. Fidatevi di lei, perché io non le so scrivere queste cose. Comunque, ci prendiamo un po' di cibo, perché siamo messi malino. E poi, vediamo se quella zattera disegnerà il nostro destino. Nel senso che moriremo affogati. O mangiati da Pasqualo. Perché in effetti, Pasqualo su Rafter è interessato alla legna. Non vorrei che stuzzicassimo i suoi gusti un po', capito? Anche qui su Stranded, capito? Sì, con questa zatteretta in legno. Magari gli sembra... Di tornare le origini. Gli ricorda, esatto. Gli ricorda le sue origini sul raft e dice, oh cavolo, è questo il mio compito vitale. Quindi magari ci mangia insieme alla zattera. Speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo di no. Allora, siamo messi male, però sinceramente al momento abbiamo totalmente finito il cocco nella nostra isolotta. Quindi, a priori, è proprio un buon motivo spostarsi e andare da qualche altra parte. Quindi, allora... Opla! Ce l'abbiamo fatta. Sì, ma... Oh mamma mia. Come funziona? Oh no. No, eh. Houston! Abbiamo un problema. Allora, quello è il davanti. Gira. Non mi hanno dato la patente per guidare questa roba. È più difficile del gommone. Assolutamente. No, ma è assurdo. Sembra che stai fluttuando nell'oceano. È ancora peggio del gommone. Ok. Cioè, non sapevo che avrei odiato la zattera più del gommone. Pensa non appena vediamo Pasqualo davanti a noi. Pensa che visione... No, si vede anche sott'acqua, ma tu sei matto! Dobbiamo andare lì, vero? Andiamo verso qua. Allora... Andiamo... No, no. No, ci provare. Guarda sempre verso l'alto. Non riesco a guidare. Fammi guardare. Mi serve. No, aiuto. Va più veloce? Sembrerebbe di sì. Stiamo surfando sulle onde. Guarda, qua ne non servono neanche gli indovinelli perché andiamo talmente veloci che cinque secondi siamo già arrivati, eh. Dai, devi soffrire in silenzio. Moriremo. Moriremo uccisi da uno squalo. Io lo so che moriremo. Guarda che secondo me siamo davvero in pericolo con Pasqualo. Io... Allora, non ti voglio mettere ansia perché sono tuo alleato. Però davvero, secondo me... Non siamo alleati, siamo nemici! Secondo me, davvero... Perché me lo stai facendo apposta? Con la zattera siamo in pericolo. Non dobbiamo pensare ai nostri pericoli. Abbiamo giusto preso un po' di coco nell'isola che c'era lì per continuare a bere dato che non siamo messi benissimo. Comunque, continuiamo dritti. Ferenichi è spaventata tantissimo da quello che ci può accadere. No, ma scherzi! Quindi, per non farti pensare, ti faccio un bel indovinello. Ok, così non guardo lo schermo. Perfetto. Allora... E se succede qualcosa, muori da solo. Così funziona. Cioè, se devi sopravvivere, butti l'altro e sopravvivere da solo. Stai facendo l'antipatica, quindi ora ti faccio un indovinello antipatico. Ok. Quando è giovane, prende il sole. Quando è adulto, ti diverte. E quando invecchia, acquista valore. Cos'è? Questa è dura, eh. Quando è giovane, prende il sole. Sì, quando è adulto, ti diverte. E quando invecchia, acquista valore. Allora... Io? 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 No. Magari da vecchio ti... Ti autodiverti? Eh, sì, magari. Non lo so ancora. Sì, terribile con gli indovinelli. Sì, no, aspetta. Allora, quando è giovane, quindi qualcosa che può stare al sole. Quando è giovane, prende il sole. Quando è adulto... Ok. Secondo me è qualcosa che ha a che fare con l'alcol. Riesco a pensare solo a cose che hanno a che fare con quello. Perché? Perché quando è adulto ti diverte perché lo bevi. Quando è vecchio acquista valore. Però mi manca il prendere il sole. Capito? Oh, mamma mia. C'era la squadra. No, non credo. Non lo so. Mi sembra di vedere qualcosa. Noi, in effetti, sì. Perché ci sono anche, mettere, le bottiglie di vino di tantissimi anni fa che valgono un sacco di soldi. Quindi potrebbe anche essere. Però, cioè, prende il sole, che senso ha? Non lo so. Forse quando è giovane prende il sole perché i vigneti, quando è ancora uva, prende il sole. Non lo so. Oppure lo trasformano in vino. Ti diverte d'adulto. Vediamo i commenti. Vino, 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 vino. Eh, vedi vino, sì. Alcuni dicono dipinto. Allora, aspetta. No, perché dovrebbe prendere il sole? No, infatti non prende il sole. E poi non ti diverte d'adulto. Al massimo lo apprezzi un dipinto, ma non è che ti diverte, capito? Cioè, lo apprezzi perché è bello. Tutti per vino, quindi credo che l'abbiamo indovinato. Perché qua la risposta non ce la danno, quindi un po' di dubbio te lo lasciano sempre. E proprio nel sole sì, perché quando è giovane e ancora non è vino, i vigneti devono stare al sole per crescere, capito? Sì. Con qualcosa di particolare. Perché so proprio che praticamente i relitti, da quello che mi sembra di aver capito, li trovi proprio nelle isole. Non è che ti devi buttare in mezzo all'oceano. Quindi ci sono isole con relitti nelle vicinanze e tu, capito, poi li esplori. Quindi voglio proprio qualcosa di interessante ad esplorare. La saluti solo se è alzata. Cos'è? La saluti solo se è alzata. Sì. Il professore, quando si alza tu lo devi salutare. No, la saluti a priori e poi... No, non è vero. Ma dai. È facilissima questa, eh. Non mi viene. Non te la sto dicendo perché è davvero facile. Speravo che ci arrivassi subito così, capito? Guarda! Guarda! Wow, una barca! Una barca, andiamo! Oh mio Dio, i miei desideri si stanno avverando. Se adesso non viene neanche Pasquale, io sono la persona più felice del mondo. Felicissima. È un'isola dei pini, ma con delle barche. Sì. Una barca. L'altro è il solito relitto che abbiamo visto diverse volte. E vabbè, però è da esplorare. Non so se c'è qualcosa sott'acqua. Esatto. Quindi, c'è anche quella di fatto è una barca. Ha distrutto, ma è una barca. Bellissimo. Perché dobbiamo esplorarla proprio di notte? Non lo so. Però, dai, finalmente abbiamo trovato qualcosa di utile. Allora, aspetta che mi parcheggio. Facciamo che ci parcheggiamo qui. Oh, ok. Non devo incastrarla troppo perché se no sono guai. Allora, la saluti quando si alza? Ci sto ancora pensando. Sì, ma... Allora, dai, risolvi e poi esploriamo. No, dimmelo tu, non lo so. La bandiera. Ma chi è che saluta una bandiera? Eh, vabbè, è una cosa che la gente fa e la saluti solo si è alzata. Ma chi? Alcuni dicevano la mano, però secondo me è la bandiera, senza dubbio. Ah, perché dovresti salutare una mano? Esatto. Guarda, queste sono boe. Uh, le boe che ci servivano. Boi balls. Perché non me le fa prendere? Probabilmente sono pesanti? Non capisco, però per ora così non me le fa prendere. Allora, vediamo che altro c'è e poi pensiamo alle boe. Allora, saliamo di sopra, scusami un attimino. Perché non posso neanche salire su una scala adesso? Dai, la sai fare la scala però, eh. Dai, su. Dai, personaggio, su. Riprenditi. Cos'è? Vedi che c'è qualcosa? Sì, 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 hard case, di nuovo. Eh, ma allora che ci faccia salire. Apriti. Console. Wow. Ma no, dai, vedi il locker si era bene. Wow. Uh, ok. Ok, è del nostro adesivo. Però ho già due secchielli, guarda, molli li tiro in testa. Poi qua che altro c'è? Cos'è? Uh, questo è per fare il motore di sicuro. Il carburatore ci servirà per il motore. Ci stiamo avvicinando, abbiamo già due pezzi, quindi non male, non male. Benissimo. Adesivo, ed era così semplice. Dovevi mirare più la corda, la corda. Non ho l'inventario per l'ultima, mi state prendendo in giro. Vabbè, ok, me lo conto allo stesso. Allora, la mettiamo subito in acqua perché non voglio evitare i bug. Ok, non troppo lontano. Esatto. Non troppo lontano, perché altrimenti poi rischiamo. A questo punto ci serve il classico floors anche per questo, giusto? Sì, aveva ragione. E a questo punto dobbiamo mettere di nuovo questa. Ci manca uno di legna e un lashing. Il lashing ce lo possiamo craftare, ti prego dimmi di sì. Ma è fantastica questa zattere. Vero? È fantastica, è più bella dell'altra. È normale, è più difficile. Ma guarda che meraviglia. Allora, questa è la nostra nuova zatteretta, che è simpaticissima. E questa è la varca che abbiamo esplorato prima. Confermiamo che non c'è altro, quindi tutto a posto. Vederlo di giorno fa un effetto diverso, per quello che lo stiamo facendo per rivedere è molto più bella. Siamo strapieni con l'inventario. Vorrei bere qualcosina prima di partire, ho visto che prima abbiamo buttato giù una palma per fare il rifugietto per dormire. Ed era caduto un cocchettino. Cocchettino. Un cocchettino. Però è scomparso il cocchettino, perché la palma era dall'altra parte. Ok, ok. Ascolta, che facciamo adesso? Torniamo a casa? Esploriamo ancora? Io tornerei a casa. Cioè, capito? Abbiamo una nuova zattera bellissima. Abbiamo tutti quegli oggetti, sia il nostro adesivo, che non sappiamo cosa ci potrà servire, sia quell'altro pezzo per il motore. Magari controlliamo un po'. Magari ci mettiamo anche qualcosa nel rifugio, eh? Stai com'è? È più veloce? A me sembra più veloce. A me sembra incontrollabile, non capisco. Anna, va, aspetta, stavo guidando male. Era il contrario. Vediamo. Ma vedi che è strana? Devo andare di così, tipo. Mi stiamo facendo pigliare un fatto. Non capisco come guidarla, però è velocissima. È più veloce, è più veloce. Abbiamo fatto bene a farla. Io sinceramente non pensavo ci fossero differenze tra quella base e questa fatta con le bue. Però se ci pensi, in effetti, le bue galleggiano meglio, no? Esatto, rispetto alla legna. La nostra casetta è vicina. Cazzo! Manca poco. Finalmente. Ci siamo quasi, siamo pieni di materiali per costruire anche un po' di cose prima di finire. Oggi è proprio episodio grandissimo. Ma certo, ma certo. Un episodio di gran livello. Abbiamo fatto una nuova zatter, anzi, abbiamo fatto due zattere. La seconda è ancora più bella della prima. Abbiamo trovato una nave, diciamo, distrutta, dove era pieno di oggetti. Alla fine è un relitto, anche quello. Una nave arenata, più o meno quello. Abbiamo del nostro adesivo che spero che possiamo sfruttare per qualcosa di figo. Un altro pezzo del motore, cioè, proprio, gg. E poi anche un po' di legna per costruire qualcosa nel nostro difugio. Del motore. Perché va sempre portato avanti. Stavo per dire. Del motore. Eh, sono super curiosa, perché dove si metterà? Nel gommone della zatter. Cioè, andiamo proprio a profusione, drittissimi, super veloce. Se incrociamo Pasquale lo centriamo e vola su un'isola, capito? Come se fosse un pallone e lo calciamo. Speriamo, speriamo, speriamo. Non vedo l'ora, perché il motore mi interessa davvero parecchio e non vedo l'ora di farlo. Magari il prossimo episodio ci dedichiamo ai tavolini. Suona male, però, eh. Un tavolino per la mia felicità mi sembra un buon compromesso, no? Allora. Io sopporto tutti i viaggi nell'oceano, mi sembra giusto che io possa avermi un tavolino. Almeno un tavolino. Scusa, non è che sto chiedendo l'oro, un tavolino. Un tavolino. Arrugginito pure, quindi non è che sia quale grande richiesta. Allora, aspetta che lasciamo questo pezzo qua. Io mi impegnerò per trovarti i pezzi, ok? Grazie, grazie. Oh no. Abbiamo un po' baggato. Guarda. È l'inizio del nostro tavolino, va benissimo. Esatto, esatto. Per ricordarci che lo dobbiamo fare. L'abbiamo fatto apposta. Noi ci mettiamo in questo angolino che almeno è coperto. Per modo di dire, perché guardate i bucchi ovunque. Fa schifo sto rifugio. A me piace, a me piace. Io sono molto felice. A me piace, quindi non mi la vendo. A me ne ho uno dei due piace. Allora, è riuscita fuori sta cosa? No, sapevo che c'era. Col nastro. Col nastro adesivo. Ecco, una cosa qui può servire. Bella, bella, bella. E c'è altro in cui serve? Perché volevo proprio controllare quello. Fammi vedere un attimino. Se mettiamo il martello. Spero che si riuscita il video. Sentici un bel like. E se la prima volta che vi ho detto il nostro video, potete considerare il video di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.